Oggi rispondo a un po' di domande e di considerazioni sparse che mi avete fatto sulla notizia del giorno, ovvero l'arrivo di Vrestalmania su D-Max e vi darò anche nel corso del video qualche informazione importante, quindi mi raccomando lasciate un mi piace e seguite il canale se ancora non lo state facendo. Iniziamo con l'osservazione più ricorrente, Vrestalmania sarà con una settimana di ritardo, l'avete scritto in parecchi, ed è vero, però al momento tutto questo si pone in linea, temporale, giusta, con la programmazione di Raw, SmackDown e di NXT su D-Max. E tenete presenti due cose, la prima è che una Vrestalmania in free tv in Italia non c'è dal 1992, quindi non è una cosa che succede ogni giorno. In altri paesi come la Francia, su AB1, Vrestalmania viene proposta con 2-3 giorni di ritardo. Noi non siamo ancora a quel livello come mercato. Potremmo arrivarci. Dipende dalla forza della community che si trasforma in dati d'ascolto e in entusiasmo e in condivisioni. Infatti la seconda cosa che voglio rimettervi nella testa, a costo di essere logorroico, è che per avere di più e di meglio, sono 4 mesi, che non a caso vi invito a compiere delle azioni specifiche. che dobbiamo mantenere. Voi che vi state lamentando, queste azioni le avete fatte? Io temo che molti di voi mi risponderebbero di no. Ora c'è questo. Ed è tantissimo. Forse non avete la concezione di quello che è accaduto. E badate bene che se va male, non è che i dirigenti di Warner Bros Discovery, guardando gli ascolti, si sentiranno spinti a fare degli investimenti superiori. Dunque sta a noi essere ottimisti e renderlo un punto di partenza e non una stazione di arrivo. E ci tengo anche a sottolineare, perché spesso a quella frase si accompagna una certa ironia sul canale, ci tengo a ricordare che la WWE su D-Max fa degli ascolti buoni. Altrimenti l'emittente, qualche mese fa, non avrebbe rinnovato i diritti. C'è un'enorme platea che se ne frega altamente del distacco con l'America e che si gode il G-Show ed è quella che tiene viva la WWE in Italia. Perché chi vuole tutto e subito, quando c'era tutto e subito, non pagava il servizio, lo rubava. Non appena si sono verificate le circostanze tecnologiche per farlo, ecco la mano che si mette all'interno del sacco. Quindi attenzione, D-Max deve anche fare delle scelte, delle verifiche e deve sottostare un po' anche a quelle che sono le direttrici e i cinguetti del mercato. E avere Vrestelmenia con questo ritardo per il mercato italiano è comunque una bomba pazzesca. Volete di più? Volete di meglio? Sapete cosa dovete fare. Andiamo avanti. Il seguire le tue indicazioni ha aiutato il raggiungimento di questo obiettivo? Io su alcune cose devo tenere la bocca cucita, ho degli accordi di riservatezza, Però qualche mese fa, soprattutto all'inizio della call to action, vi avevo detto che la dirigenza di D-Max si era accorta sia di un attivismo web più marcato Io posso compiere delle opere di persuasione, posso portare dei dati, posso cercare di socchiudere certe porte con il vostro aiuto, Ma poi le cose importanti le fa qualcun altro, le fa una dirigenza, e io sono lontano da quei tavoli, io non ho il budget dell'emittente, né decido dove collocarlo, ok? Però mettiamola così, mi piace pensare che un po' di vino in tavola lo abbiamo messo anche noi. 3. Quando ci parli del concorso legato alla visione dello show? Credo che vi dirò tutto la settimana prossima. Vedrete comunque che sarà una cosa molto semplice. Vi posso anticipare che, a meno di cambiamenti, ci saranno quattro premi, ognuno dei quali corrispondente a due biglietti d'ingresso per il live event di Bologna del primo maggio. 4. Proseguiamo. Che sta facendo D-Max per promozionare l'evento? Beh, ha diramato un comunicato stampa nazionale. A breve farà passare degli spot pubblicitari specifici, e in più sono previsti spazi sulla stampa e sulle radio, in alcuni casi coinvolgendo pure me e Luca. Manca ancora un po' alla data degli show, quindi vedrete che la promozione si intensificherà a ridosso della messa in onda. Andiamo ora a toccare un punto tra i più richiesti. Ovvero, le due notti di Vrestalmania. Si vedranno anche su Discovery Plus? Aprite bene le orecchie, eh, perché sì, ma a partire dalla contemporaneità con D-Max. Non prima. Ok? Non prima. Dalla contemporaneità con D-Max. Poi, le due notti, le si potranno rivedere on demand quando siete più comodi. dalla data di prima emissione in poi per un paio di settimane. Cos'altro possiamo fare per sostenere l'evento? Beh, oltre alle condivisioni dei contenuti social che lo riguardano, si potrebbe, non so, eseguire un'azione web mentre va in onda. Che so, postare ovunque foto della TV sintonizzata su D-Max e usare un hashtag collettivo. Di modo che io possa ribattervi su Twitter, oppure mi taggate su Instagram, faccio una condivisione, ma taggate anche D-Max. Il profilo ufficiale, così vedono. Vedono che c'è fermento. Ok? Quindi deve essere un po' tutto verificabile. Un hashtag che funziona potrebbe essere WWE D-Max da far girare proprio quelle due notti. Però accetto suggerimenti su qualsiasi altra cosa vi passi per la testa, perché magari ora sono un po' sotto stress e l'idea giusta non si è ancora accesa. La lampadina è spenta. Io nel weekend provo a creare altri mini video promozionali e se mi vengono bene li pubblico in giro, su Instagram, su TikTok, su Twitter, su YouTube, su Facebook. Se li vedete e vi va di far girare ancora di più la ruota, sapete già cosa fare. E direi che con questo ho terminato. Spero di aver risposto a tutto ciò che non era ancora chiaro. Nel caso abbiate altri dubbi o domande, con Ditaro 20 vi aspetto nello spazio dei commenti. Grazie. Grazie.